In occasione del Giro d'Italia che il 25 maggio fa la tappa a Venaria Reale, la Proloco Altesano-Venaria ha reso un doveroso omaggio con una mostra fotografica dedicata ai ciclisti venariesi, atleti che tanto nel passato hanno onorato il nome della città, partecipando a numerose gare e arrivando addirittura, come Giuseppe Cheinero, a partecipare al Giro d'Italia come gregario del campionissimo Fausto Coppi. Una semplice raccolta di foto e di immagini che hanno liberamente tratto da una pubblicazione del 2011 dal titolo Pedali Venariesi, curato dall'amministrazione comunale, in occasione della partenza del Giro d'Italia proprio a Venaria Reale con la collaborazione di appassionati. Hanno arricchito con altro materiale, dalle cui immagini traspare la genuina passione e sofferenza per uno sport così tanto amato e praticato. Chi era Cainero Venaria? Venaria, te lo ricordiamo tutti come vigilo urbano, all'epoca di quando c'era Nereo e Palaretti, te lo ricordo in bicicletta, che dava consigli, salutava sempre tutti, una persona molto amabile, oltre che poi di bella presenza, alto, distinto. Già nell'andare nella bicicletta classica nera dei vigili urbano capivi già che ero un corridore professionista. Poi, come abbiamo messo in qualche fotografia qui, abbandonò la bicicletta e usò la motocicletta dei vigili urbani di Venaria. Con gli anni diventò poi il comandante dei vigili, fino a che andò in pensione e dopo pochi anni si ammalò. Ed è ancora, fino a pochi anni fa la moglie lo accompagnava con la carrozzina, al bar, a bere il caffè, salutare gli amici. Adesso purtroppo ultimamente non l'abbiamo più visto. Sappiamo che è peggiorato un po'. Vai girardegno, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai girardegno, non si vede più stante, è sempre più lontano, è sempre più distante. È sempre più lontano, è sempre più distante. Vai girardegno, non si vede più stante, è sempre più lontano, è sempre più distante. Vai girardegno, non si vede più stante. Vai girardegno, non si vede più stante.